Questo progetto nasce di questo rapporto sempre più profondo con Luceplan. Infatti, un po' di anni fa, quando abbiamo iniziato a fare il lampadario Co, la nostra intenzione dall'inizio era quella di riuscire a stampare con il progetto processo di iniezione delle lente Fresnel. All'epoca si era rilevato completamente impossibile a livello tecnico. Poi il tempo è passato, la tecnica si è un po' evoluta e è diventata disponibile, anche con grande difficoltà, quindi subito ci è apparso molto interessante tentare di fare un progetto che abbia, che utilisse questa invenzione, questa novità assoluta nel mondo dell'iniezione. La possibilità tecnica di stampare iniezione, una lente Fresnel e le conoscenze ottiche, fanno nascere questa Plic, il quale ha una genera, una sfera ottica, che diffumina in un modo ideale la luce prodotta dai LED. allo stesso tempo genera un effetto di riuscione molto particolare, dove una sfera virtuale si vede davanti a una superficie piatta, molto sottile, attaccata contro il muro. Quindi fa un gioco molto interessante dal mio punto di vista, con la percezione di chi guarda questo oggetto. Abbiamo lavorato in modo minuzioso nella definizione materica di questo oggetto, usando materiali di grande qualità. Nella parte posteriore una pressofusione in alluminio per la dissipazione e la temperatura che generano i LED e anche per dare all'oggetto una rigidità e una costruttiva notevole. Poi nella parte frontale c'è questo coperchio fatto con una plastica molto tecnica, dove è stata stampata la lente Fresnel, con una cornice molto studiata, dove è portato a capire fino al minimo particolare gli spessori, le finiture, per dare una percezione di qualità maggiore a quella che la plastica di solito ci dà. Grazie a tutti!